Stiamo a vedere, stiamo avanti e avanti. Vieni, andiamo a vedere la bottiglia. Salute a Jenny, salute al donno, ciao. Ciao Anna. Bravi, bravi. Stai beccato? Ma hai già sposato? Stai parato, stai parato. Brava. Ma perché c'era a metà con la calamita per quello? Vieni, mi abbraccio. Andiamo di qua. Basta. E questa è solo la prima. Oh, sei bella. Ce lo so, sono tutto il nonno. Scusa, però dite che fanno in tempo. Scusa, però dite che fanno in tempo. Io c'avevo un bicchiere a portare il mare. Scusa, è sparito. E' sparito, sta a portare con il di fuoco. Bene. Uno, due. E' vero. 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 Questo è il gesto, rispettuto ai uvani. Vuole anche un pochettino sfumato alla gente. No, no, lo può bene con il sfumato. No, no, lo può bene con il sfumato. E' vero. E' vero. Che con me se ne scappa come il tappo. No, 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 no. No, 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 no. E' vero. E' vero. No, no. Grazie.